E giovedì guidarà la banda e aiuterà la squadra di futbol a dominare il mondo! Diana, spacca! Ah, sì? Beh, venerdì conquisterà tutti come Giulietta nella recita scolastica! Il mio debutto alla regia sarà un assoluto trionfo! Bababoo! Sì, Diana sta per vivere una settimana davvero memorabile. Dopotutto, cosa potrebbe mai fermarla? Ma cosa le hai portato sfortuna, Karen? Io? Punteggio Quindi è successo davvero? Forza Hamsters Sì, c'è la libertà! Sì, sì, sì. Oh! Che cosa? La peste dalle orecchie a punta vuole guastare i miei piani! Babs, Diana, mi dispiace così tanto. Ti sei battuta bene, guerriera. Ora riposa. Grazie. Potete credere di avere già vinto, ma c'è ancora un grande spirito guerriero in noi. Ogni battaglia richiede dei sacrifici, ma con questa sfera di energia e la nostra determinazione nessun esercito potrà mai batterci. Venite, sorelle mie, riclamiamo la nostra vittoria! Diana, fuori. L'hai fatta cadere nel tuo campo. Ma... Niente ma. Trovo queste regole un po' difficili da seguire. Babs, esci dal campo. Non lasciarmi. Oh no! Niente paura! Tre contro quattro non è così! Siamo ancora in due! Oh no! Sta perdendo il suo spirito guerriero! Oh no! Karen, puoi farcela! Va bene, si parte. Karen, schiva! Ce l'hai fatta! Facciamola finita, io ho di meglio da fare. Cosa? Sì! Beh, la terza è quella buona. Ma dai! Schiva Tadab! Oh no! Che sta succedendo? Entropoli. Angar! Ottimo lavoro, Nathaniel. Vuoi scherzare? Sono durato due secondi. Già! Il doppio rispetto all'altra volta. Ehi, chi vuole la rivincita? Scusa, Diana. Ho perso abbastanza per oggi. Resti ad allenarti anche se hai appena sconfitto l'intero club di scherma, vero? Ipotesi corretta. Spegni le luci quando vai via. Ah, buongiorno! Sei un nuovo membro? Anch'io, in realtà. I duelli simulati sono un vero tonificante. Molto bene. Saranno questi a parlare per noi. Gran lavoro di Gabby. Usi la tecnica di Don Bay, vero? È ovvio, dato che non conoscevo le tue debolezze. Ora le conosco. Perché sorridi? Sono più abile di te. Per aiutare quelli del club, combatto con la sinistra. Ma io non sono mancina. Io ho una cosa da dirti. Oh, nemmeno tu sei mancina? No. Lo sono. Però c'è qualcos'altro che non sono. Distratta? Touché! Oh, è una tale emozione subire finalmente una sconfitta! Tu sei incredibile! Diana Prince. Sono arrivata dal Giappone. Sei la prima avversaria degna che abbia trovato. Un giorno dovrai insegnarmi a parare come te. Perché non ora? Diana? Diana? Io non arrivo! Cosa è accaduto? Eri fantastica, come al solito! Poi quel ragazzo è entrato e tu sei diventata una schiappa! Ragazzo? Intendi? Steve! L'incredibilmente bello forse anche più di Adon e Steve? Eh, sì! Io credo che fosse lui. Ma perché mai dovrebbe farmi questo effetto? Lo conosco a malapena! È soltanto il primo ragazzo che ho visto quando sono arrivata qui nel mondo degli uomini. Oh, raccontaci tutto! Dopo un lungo e arduo viaggio attraverso i sette mari, misi piede sulle sabbie di questo nuovo mondo. Lui era proprio lì. Steve Trevor. Ehi, un nichelino! Per me erano solo leggende. Ma finalmente vedevo dal vivo un ragazzo. Gli strinsi la mano in segno di amicizia. Però non mi emozionai. Non fu niente di cosa. Non fu niente di che. Sì, certo. Ehi, Diana! Non mi sbagliavo, sei proprio tu. È bello rivederti. E ci sono le tue amiche. Ciao! Ma che mi prende? Ciao! Ciao! Sì! Eh? Usiamo lo schema ZEP39. Break! Blue 52! ZEP! Ah! Oh, questo! No! Sì! Non è possibile! Avete finito? Perché posso chiuderla con un solo lancio? Karan, non puoi vincere solamente schivando! Devi affrontare il nemico a testa alta! Ma... Ecco che... Arriva! Ah! Oh, cavolo! Coraggio, Karan! Affronta le tue paure! Ah! Oh no! Affronto le mie... paure! Direi che avete vinto Ah-ah, Karen! Karen, sei fantastica! Le ho affrontate, Diana Non era quello che intendevo Ma sei stata grande Complimenti! Impari molto in fretta E tu sei un'ottima insegnante Oh, per Crono, è davvero tardi Io devo andare Mi piacerebbe vederti per una tipica attività da adolescenti Potremmo... Come ti diverti dopo un allenamento? Beh, ecco, allenandomi di più Anch'io! Grazie per la visione! Grazie a tutti. Grazie a tutti.